Allora siamo sul ponte di Rialto, Rialto seria Rio Alto, questo è Rio Alto, è grande, ecco. Buona cioccolata? Sì, no, corre che ti mangi cioccolata, siamo qua con i nostri amici telespettatori, buonasera. Buonasera. Conoci Veneto? Sì, no, un attimo qui. Bravo. Cioccolata? Benvenuti a questa ennesima lezione di corso turistico a Venezia. Per stranieri. Bravo, per stranieri. Purtroppo è un ragazzo che fai a toccare, se non mangi cioccolata. Ti vedi, ma ti vieni fuori i bruschi, sì? Ah, per te? I bruschi dove, 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 dove. È sfogo, è sfogo di questo caccio di cioccolata che ti mangi tutti i giorni. No, no, non posso scogliare. No, abituato. Allora siamo sul ponte di Rialto, ecco, è l'attraversamento a metà del canale grande. È bello, abbastanza bello. Ecco, vieni qua, vieni qua, bello cosa. Vieni qua, e ora ti vedi? Bello. Vieni qua, ti vedi? Sì, abituato. Ecco, questo è il canale grande. Questo è il canale grande, ragazzi. Siamo, siamo in una, in uno dei posti più belli del mondo. Se non il più bello, la nostra amatissima Repubblica Serenissima di Venezia di Agria Pionda. Ario, Ario, ti fai distratto. No, no, che te arriva un po'. Questo è una cosa, però no. Diciamo, da sempre, nei secoli, nei secoli, nei secoli, diciamo, sì, no, così ti fa citazioni ecclesiastiche. Allora, nei secoli i nobili e i ricchi mercanti costruivano i loro palazzi lungo il canale grande. Infatti, vedi, tutti i palazzi hanno una particolare cura architettonica che non è, che non è uguale. No, però, sperate, in Svizzera, Perna è un panorama, panoraggio, panoraggio, panoraggio di Perna uguale. Ma che panorama, se dite, se me ne ho, ma bello così. Abbastanza bello, ma in Svizzera è uguale. Ma cosa è uguale? Non ancora, se è brutto. Se è brutto come un'aliquota, Irpeth, non vi dico altro. Ma sì, Irpeth. Se è passato a via una gnocca, si fa. Ma sì, l'avevi visto a me. Ma, la bella. Sei bella, sai, ti sei in maniaco sessuale. E ora, ti vedi, è a fondo, ti vedi qua, qua, sei nel punto centrale, diciamo, che ha rialto, è un momento che mi sento di confusione. E non si vede. e quanto è? a Rialto se spostiamo, spostiamo che passa a gente come i stambi è un territorio grandissimo e qua si trova ma l'uomo allora Rialto era il punto centrale del commercio da sempre le navi arrivavano e qui c'era lo smistamento con tanto di domanda il punto di Rialto è stato fatto quando è stato costruito nel 1600 molto tempo dopo la costruzione di Bernat nel XVII secolo Bernat è stato costruito ma che cosa? è stato costruito da Antonio Loprano meriteria da buttare lo so però è stato costruito sbagliato io ho visto da Antonio da Antonio da Cortes è stato? Antonio da Ponte è stata fatta una gara d'appalto pensate si chiama Antonio da Ponte e fa un ponte noi siamo stati sempre liberi si facevano le gare d'appalto cose che in quei tempi non esistevano siamo sempre stati precursori sono solide insomma questa è da sempre stata una repubblica dovevamo insegnare a vivere a tutto il mondo i fiori i svisceri mangiare il cioccolato Antonio da Ponte se ci salutiamo saluta Antonio da Piazza si è schematico anche i geometri se vediamo la prossima puntata andiamo verso San Marco paghi tu adesso no 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 ti paghi to ti già ti Grazie a tutti